Valutare gli scenari e la portata della cessione alla FIMER del settore solare dell'ABB di Terra Nuova Bracciolini. Questo il tema del tavolo di confronto che si è aperto oggi per iniziativa della regione toscana che in prima battuta ha incontrato i sindacati e il vice sindaco di Terra Nuova Bracciolini ma che poi in un incontro successivo convocherà i rappresentanti della multinazionale svizzera e del gruppo Lombardo. La cessione di un ramo d'azienda dell'ABB alla FIMER è arrivato secondo i sindacati come un fulmine a ciel sereno. Di fatto lo stabilimento valdarnese verrà diviso in due e solamente la divisione carica batteria per la mobilità sostenibile resterà ad ABB. Gianfranco Simoncini, consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, ha spiegato che la regione si attiverà immediatamente anche perché in questi anni è a più riprese intervenuta per favorire un radicamento delle attività dell'azienda sul territorio e sostenerne gli investimenti. Ad ABB così la regione chiederà garanzie sull'integrazione dell'attività dopo la separazione delle due aziende e garanzie per il mantenimento sul territorio delle produzioni. A FIMER verrà invece richiesto di conoscere il piano industriale con la produzione di inverter e sorare con gli investimenti che si intende mettere in campo oltre alla piena garanzia del mantenimento del sito produttivo e dell'occupazione. I sindacati che nei giorni scorsi avevano indetto lo stato di agitazione permanente hanno quindi annunciato che chiederanno al Ministero dello Sviluppo Economico l'apertura di un tavolo nazionale. La regione si è infine detta pronta a sostenere questa richiesta.